Bambini, oggi faremo l'accento, ma prima vi bevo un bel caffè. Accento è un cappello strano che la vocale mette quando vuole che la chiami ad alta voce, come per esempio giù, vuole che il suono si distingua dagli altri. E andiamo a leggere qualche parolina. Papà, maestà, tribù, tutù, bambù, caffè, città, soffà, bignè. E le ultime tre leggetele voi. Bravi! L'accento cambia completamente il significato della parola. Pero diventa pero, faro diventa farò, fiori diventa fiori e passero diventa passerò. Uh, adesso andiamo a fare questo esercizio molto carino. Cioè che cosa dobbiamo fare qua? Cangorino, tu lo sai? Dobbiamo colorare, dobbiamo aggiungere l'accento dove occorre e poi colorare le parole. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che abbiate capito l'accento e sono in esclusiva le nostre nuove maglie. Bellissima, Lavi! Vi ricordiamo di continuare a seguirci perché ancora vi dobbiamo dire... Per ricevere queste fantastiche magliette! Ciao! Ciao!